Ciao a tutti e benvenuti su Lost Archeology. Sulla pagina abbiamo parlato varie volte di come l'archeologia sia una scienza che utilizza conoscenze di altri campi e dallo stesso tempo può fornire dati importanti anche ad altre discipline apparentemente molto distanti nello scopo. Oggi parleremo di quattro studi, tra i tanti, che hanno un filo comune tra di loro nonostante la distanza temporale geografica. Sono tutti studi di paleopatologia che riuniscono l'operato di archeologi, antropologi e medici. Il primo è anche il più vicino a noi temporalmente e riguarda lo sfortunato Edoardo V d'Inghilterra. Nel 1483 moriva Edoardo IV e così il figlio dodicenne Edoardo fu portato a Londra per l'incoronazione. Assieme al fratello di dieci anni, Riccardo, venne alloggiato nella Torre di Londra in attesa dell'incoronazione che non arrivò mai. Infatti furono dichiarati figli legittimi, forse per le trame dello zio, il futuro re Riccardo III. Di loro non si sentì più parlare, creando così la diceria, ben conosciuta nei secoli successivi, della morte all'interno della Torre. Durante i lavori svolti nella White Tower nel 1674, venne ritrovata una cassa con le ossa di due individui molto giovani e, ritenendoli due bambini, vennero posti in una cappella della bazia di Westminster, dove rimasero fino al 1933, quando i loro resti vennero resumati per eseguire indagini moderne. Questi sembrarono confermare l'ipotesi dei due principi. Le analisi su presunto Edoardo V vennero svolte sulla mandibola e, negli anni 90, un nuovo studio di paleopatologia mostrò le evidenze di una malattia rara. La mandibola presentava infatti lesioni ossee precedentemente ritenute una malattia parodontale, che nello studio del 1994 di Macleod e Hergreaves venne confrontato con lesioni mandibolari di un bambino di tre anni affetto da istiocitosi a cellule di Langerhans, trovando numerose analogie. Un'altra diagnosi simile è quella pubblicata da Mace e Nerlich nel 1992, riguardante lo scheletro di un bambino di otto anni scoperto nello scavo del cimitero medievale di Warren Percy in Inghilterra, uno scheletro precedente di circa due secoli rispetto a quello del presunto Edoardo V e che giunce a noi quasi completo testimoniando lesioni al cranio e alla mandibola, anche se ricollegata alle istiocitose cellule di Langerhans. La mandibola mostrava l'assenza della dentatura inferiore sinistra, perduta quando ancora in vita, e la distruzione della fossa mandibolare e dell'osso spenoide. Uno studio precedente che voleva vedere in queste lesioni, il segno è lasciato dallo scorbuto, ma l'assenza totale di segni sulle altre ossa portò Mace e Nerlich a formulare varie ipotesi sulla base di dati ottenuti, scartandole una ad una in base all'assenza di determinati fattori. Osservando queste lesioni, giunsero così alla conclusione che si trattasse con alta probabilità di istiocitosi a cellule di Langerhans per la tipologia delle lesioni e della sciopera comune manifestazione nel cranio, assieme ad una iperostosi porotica causò la morte del bambino. Un altro caso riferito a questa malattia venne pubblicato nel 1987 da Brenda Kennedy, in quel periodo considerato il più antico esempio conosciuto di istiocitosi a cellule di Langerhans, all'epoca ancora istiocitosi X. Basato sul ritrovamento dei resi scheletrici parziali di un bambino amerindio di circa 3 anni, trovato durante uno scavo nel Newfoundland e datato attorno al XV secolo a.C. circa. Più recente è invece il caso perveniente dall'Egitto, pubblicato dal dottor Misrav Chav Kassima studiosi di altri campi, riguardante una mummia del X secolo a.C. La mummia rivelò, a parte la sorpresa di essere di sesso maschile anziché femminile come veniva invece lasciato intendere dalla cassa, il decesso per malattia attorno a 20 anni di età. Per analisi vennero utilizzati i raggi X, una tomografia computerizzata e l'imaging in risonanza magnetica, le quali mostrarono i profondi danni che la malattia causò a grandi parti dello scheletro del ragazzo, lasciando lesioni litiche. Questa mummia rappresentava un caso di Hans Schuller Christian, una delle malattie oggi raggruppate nelle istiocitose cellule di Langerhans. Quattro casi lontani nel tempo e geograficamente, tutti accomunati da un'unica malattia. La convinzione che alcune malattie siano prerogativa dei nostri tempi è ormai una visione passata ed oggi vi è la consapevolezza di come uno studio dei resti umani del passato possa fornirci dati importanti per meglio comprendere anche malattie considerate rare. Una malattia come quella dell'istiocitose cellule di Langerhans, un tempo mortale ed altamente dolorosa e oggi, per quanto grave, fortunatamente meglio individuabile e trattabile. Le cause della sua insorgenza non sono ancora conosciute, ma viene ricondotta ad un difetto dell'immunoregolazione che porta ad un accumulo, solitamente sotto forma di granulomi, delle cellule di Langerhans in alcuni tessuti che possono essere locali o diffusi in tutto il corpo. Si tratta di una malattia che si presenta negli infanti, ma a volte anche fino ai primi anni dell'età adulta e colpisce solo poche persone al mondo, maggiormente gli individui maschili. Abbiamo trattato solo le evidenze antiche ossee di questa malattia, in quanto testimonianza più duratura. Allo stato attuale della riconoscenza, la malattia, quando si presenta focalizzata su di un singolo organo, ha una proniosi eccellente. Purtroppo, nel caso di malattia diffusa su più organi, è riscontrata la mortalità di un paziente su dieci. Oggi è il Rare Disease Day e tutti insieme, ognuno a bordo proprio, abbiamo voluto focalizzare la vostra attenzione su alcune delle numerose malattie che necessitano una profonda ricerca per dare maggiori possibilità a chi ne ha affetto. I miglioramenti in campo medico si ottengono grazie alla ricerca e questa è possibile solo grazie allo stanzionamento di fondi dedicati ad essa, ma anche ognuno di noi, nel suo piccolo, può fare qualcosa. Se ne avete la possibilità, vi invito ad effettuare una donazione a qualche associazione che si occupa di malattie rare, in modo che possa continuare il proprio operato. Sul sito di uniamo.org, che trovate in descrizione, troverete molte altre informazioni ed il link di varie associazioni alle quali potrete effettuare una donazione. Nel caso non abbiate possibilità economica, potete comunque contribuire anche voi parlando di questa giornata e diffondendo i video che trovate in descrizione. Richiedete maggiore attenzione per chi soffre di queste malattie. Richiedete più fondi per la ricerca. Tutti insieme possiamo fare la differenza.